Negli ospedali, nelle case di riposo, a domicilio, ai drive-in organizzati dall'azienda sanitaria, a quelli messi in piedi con il sostegno di comuni e medici di base. Nel Bellunese, come altrove, si è vaccinato in diverse sedi e in diversi momenti. E mentre si inizia a pensare alle chiamate per i sessantenni, arrivano i primi bilanci dell'Ulss Dolomiti, 95% di copertura degli over 80, 53% delle persone tra i 70 e 79 anni. La rete si è allargata e durante questa settimana i medici di famiglia hanno eseguito circa 1.500 vaccinazioni in sedute collettive, come quelle in Cadore, in Comelico o nel Feltrino, o andando al domicilio delle persone più fragili. Seconda seduta vaccinale per la popolazione del Comelico, abbiamo con noi il dottor Sebastiano Di Rosa, del gruppo dei medici di medicina generale, che anche questa volta si è assunto l'incarico di procedere con le vaccinazioni. Anche in questo caso un'ottima risposta della fascia d'età 70-79 anni. Allora, oggi abbiamo fatto la fascia d'età prevente tra i 70 e i 79, alcuni, ovvero 80, che non erano riusciti ancora a fare. E siamo qua, la gente è a corsa in maniera, rende celere. Il 25 aprile si vaccinerà ancora, nello specifico l'ex Marangoni a Feltre, e poi si ripartirà da lunedì con servizi ambulatoriali o a domicilio in vari paesi come Sospirolo, Valdizoldo e Alleghe. Sempre da lunedì ripartirà l'attività ambulatoriale per tutte le specialità e in tutte le sedi, con una ripresa anche dei ricoveri finora sospesi. In Uls Dolomiti le prestazioni da recuperare sono circa 2.700 e sarà il CUP a ricontattare i cittadini per il nuovo appuntamento.